Nell'esercizio di questo video Quindi insieme di definizione Beh, chiaramente f di x è il prodotto tra x e x per e alla modulo di x meno 1 E' tutto ben definito, niente ci dà problemi Per cui l'insieme di definizione, cioè definito per ogni x Qualunque sia x appartenente a r, l'insieme di definizione è tutto l'asse reale Quindi è tutto r Poi, insieme di continuità Allora, modulo di x meno 1 è una funzione continua E elevato alla modulo di x meno 1 è la composizione di funzioni continue Perché sarebbe la funzione e alla x calcolata non in x ma in modulo di x meno 1 E quindi è ancora continua x volte che moltiplica e elevato alla modulo di x meno 1 il prodotto di funzioni continue Quindi è ancora una funzione continua Quindi la nostra funzione f di x è una funzione continua Dove? Su quale insieme? Ovviamente sull'insieme di definizione, cioè dove è definita f Che in questo caso è tutto l'asse reale Passiamo ora all'insieme di derivabilità E accorgiamoci subito che adesso c'è un punto che ci dà fastidio Che è il punto x uguale a 1 Perché, se vi ricordate, modulo di x meno 1 Come se dovessi disegnare Questo è l'asse lx, questo è l'asse ly Qui c'è il punto 1 Modulo di x meno 1 è questa funzione qua E questa funzione qua È derivabile? No In x uguale a 1 la funzione non è derivabile Perché ha un punto angoloso Per cui non sappiamo se e elevato al modulo di x meno 1 Ancora è una funzione non derivabile Per esempio in x uguale a 1 oppure è derivabile Proviamo a studiare Innanzitutto togliamoci il modulo Quindi f di x Scriviamola come una funzione definita per casi Allora Modulo di x meno 1 vale x meno 1 se x è maggiore o uguale di 1 Vale se no 1 meno x se x è minore di 1 Per cui f di x vale x volte e alla x meno 1 1 per x maggiore o uguale di 1 Mentre vale x volte e alla 1 meno x per x minore di 1 E quindi come si vede x uguale a 1 è Diciamo punto di raccordo Tra questi due rami Cioè f è una funzione definita per casi Per x maggiore o uguale di 1 F è definita questa espressione Per x strettamente minore di 1 È definita per quest'altra espressione Queste due quantità si raccordano in x uguale a 1 Allora Chiaramente Se vogliamo calcolare f' di x Ah se ci mettiamo lontano dal punto di raccordo Se ci mettiamo per x strettamente maggiore di 1 Allora f' di x sarà semplicemente la derivata del ramo che definisce la funzione Quando x è maggiore o uguale di 1 Però ci siamo messi lontani al punto di raccordo Perché in x uguale a 1 le cose si raccordano Quindi dobbiamo studiare cosa succede Per x strettamente maggiore di 1 F' di x è la derivata di x per e alla x meno 1 Mentre per x strettamente minore di 1 Di nuovo f di x sarà la derivata del ramo definito per x è strettamente minore di 1 Quindi di x per e alla 1 meno x Allora facciamo un attimo i calcoli Facciamoli qua in azzurro Allora la derivata di x per e alla x meno 1 Derivata di un prodotto Quindi la derivata della prima che fa 1 per la seconda Più la prima non derivata per la derivata della seconda Che è sempre x meno 1 E quindi possiamo scriverla come 1 più x per e alla x meno 1 Mentre la derivata di x per e alla 1 meno x è uguale Derivata di un prodotto quindi e alla 1 meno x Più x La derivata di l elevato alla 1 meno x è meno e elevato alla 1 meno x Quindi meno e elevato alla 1 meno x E quindi è 1 meno x e elevato alla 1 meno x Quindi f' di x sicuramente è uguale a 1 più x che moltiplica e alla x meno 1 Quando x è strettamente maggiore di 1 Mentre 1 meno x per e elevato alla 1 meno x Quando x è strettamente minore di 1 Cosa succede In x uguale a 1 Quanto vale F' calcolata in 1 E qui per calcolarci la derivata prima nel punto 1 C'è poco da fare Sarà la derivata del ramo definito per x maggiore o uguale di 1 Sarà la derivata del ramo definito per x minore di 1 L'unico modo per calcolarci la derivata in 1 è usare la definizione Ovvero i rapporti incrementali in sostanza Quindi usiamo la definizione F' di 1 C'è la derivata del punto x uguale a 1 E' definita come il limite Per h che tende a 0 Di f calcolato in 1 più h Meno f di 1 Tutto diviso h Ovviamente La funzione derivata in x uguale a 1 E' definita come questo limite Quando questo limite esiste ed è finito Se questo limite non esiste oppure non è finito Si dice che la funzione non è derivabile Nel punto x uguale a 1 Se questo limite esiste ed è finito Allora, verifichiamo se questo limite esiste oppure non esiste Sicuramente quello che possiamo fare Siccome qui si tratta di calcolare f nel punto 1 più h Ora, se h è positivo 1 più h è strettamente maggiore di 1 E quindi f sarà il primo ramo Se h è negativo 1 più h è minore di 1 E quindi la f che va considerata è quella definita da questo secondo ramo Per cui separiamo i casi Tanto il limite esiste se soltanto se il limite per h che tende a 0 da destra E il limite per h che tende a 0 da sinistra Esistono e sono uguali Quindi calcoliamoci prima il limite per h che tende a 0 da destra di f di 1 più h meno f di 1 diviso h E poi il limite per h che tende a 0 da sinistra di f di 1 più h meno f di 1 Tutto diviso h Ora in realtà non dobbiamo fare tanti calcoli perché Quando, come ho già detto, quando h si avvicina a 0 da destra Questo qui è il limite per h che tende a 0 Però quando c'è 1 più h è strettamente maggiore di 1 Quindi sto considerando Questo ramo qui Il ramo x che moltifica e alla x meno 1 Quindi questo qui è un rapporto incrementale Dove la funzione vale proprio il ramo di sopra E quindi c'è poco da fare Questa qui è proprio la derivata del ramo di sopra calcolata in x uguale a 1 Quindi questo valore qui Sarà proprio 1 più x che moltiplica e alla x meno 1 Valutato quando x è uguale a 1 Cioè la derivata del ramo di sopra in x uguale a 1 Perché è proprio il rapporto incrementale del ramo di sopra Ovviamente fatto il rapporto incrementale soltanto quando h tende a 0 da destra Quanto fa questo valore Andiamo a sostituire x uguale a 1 Otteniamo 2 che moltiplica e alla 0 E alla 0 fa 1 e quindi 2 Similmente quando h è negativo 1 più h è strettamente minore di 1 Cioè minore di 1 Per cui quando faccio questo rapporto incrementale È come se stessi facendo il rapporto incrementale Del ramo definito da x per e elevato alla 1 meno x E per cui quanto farà questo limite quando h tende a 0 da sinistra Va semplicemente la derivata di quel ramo Quindi 1 meno x per e alla 1 meno x Valutata sempre in x uguale a 1 Perché stiamo facendo il rapporto incrementale centrato in x uguale a 1 Se andiamo a sostituire x uguale a 1 Otteniamo 1 meno 1 che fa 0 Per e alla 0 che fa 1 e quindi 0 Quindi come potete vedere Il limite per h che tende a 0 da destra È diverso del limite per h che tende a 0 da sinistra Quindi questo limite qua non esiste Conclusione La funzione diciamo f di x non è derivabile in x uguale a 1 E quindi l'insieme di derivabilità È semplicemente tutto l'asse reale meno il punto x uguale a 1 Bene Ora studiamo Tutto in una volta L'insieme di crescenza e decrescenza massimi e minimi Come facciamo? Studiamo il segno di f' Cioè della derivata Quindi vi ricordo Che f' di x abbiamo trovato essere 1 più x per e alla x meno 1 Per x strettamente maggiore di 1 1 meno x per e alla 1 meno x Per x strettamente maggiore di 1 Mentre per x uguale a 1 non è definita Perché la funzione f non è derivabile Allora Chiaramente Se x è maggiore di 1 Strettamente maggiore di 1 Allora no? Questo ramo qui è 1 più x E alla x meno 1 è sempre positivo 1 più x sicuramente sarà sempre positivo Perché x è un numero positivo Per cui f' di x sarà sempre positiva Mentre Se x è minore di 1 Quindi questo cosa vuol dire che 1 meno x è minore di 0 Allora che succede? 1 meno x è minore di 0 E elevato alla 1 meno x è sempre positiva E per cui il rapporto Il prodotto di una cosa negativa Per una cosa positiva Sarà strettamente negativo E sarà strettamente Scusate ho sbagliato Se x è strettamente minore di 1 Allora 1 meno x è strettamente maggiore di 0 Porto la x da questa parte della disuguaglianza Per cui 1 meno x sarà strettamente positivo E elevato alla 1 meno x è strettamente positivo E quindi f' rimane strettamente positiva Quindi se vogliamo metterlo diciamo su un piccolo grafico Qui c'è il punto x uguale a 1 Allora so che La funzione per x è strettamente minore di 1 La derivata prima è sempre positiva Poi qui la derivata prima non è definita E poi di nuovo è sempre positiva Quindi questo cosa vuol dire Siccome dove la derivata prima è positiva La funzione è crescente Allora sappiamo che Qui la funzione sarà crescente E poi a destra di 1 La funzione riprenderà ad essere crescente Quindi F di x è crescente In meno infinito 1 e 1 più infinito Quindi abbiamo trovato Non è mai decrescente Perché la derivata prima non è mai Strettamente minore o uguale di 0 E inoltre Non ci sono nemmeno massimi Minimi Perché La funzione parte da meno infinito E poi inizia a crescere 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 Cresce fino a x uguale a 1 In x uguale a 1 La derivata prima non è definita Quindi non abbiamo molte informazioni Su questo punto Potrebbe essere un punto di massimo Di minimo No Perché? Perché la derivata A sinistra di Cioè la funzione Cresce fino ad arrivare a 1 E poi quando riparte da 1 Riprende a crescere Quindi non sarà ne un punto di massimo Ne un punto di minimo E poi dopo che ha superato a 1 Appunto la funzione continua a crescere Fino a più infinito E quindi è evidente Che non possono esserci massimi o minimi Ora passiamo alla ricerca Degli asintodi E qui diciamo La funzione f di x È definita Per tutte le x appartenenti ad R Per cui I punti che dobbiamo andare a controllare Sono come si comporta F agli estremi del dominio Quindi in questo caso Come si comporta F Quando x tende a più infinito O quando x tende a meno infinito Dobbiamo Controllare Come Si Comporta F di x In Più o meno infinito Perché La funzione f è definita Questo qui L'asse dei numeri reali È definita per ogni x appartenente ad R Quindi dobbiamo controllare Come si comporta La funzione f di x Quando x tende a più infinito E come si comporta Quando tende a meno infinito Vi ricordo Così ce l'abbiamo sott'occhio Che f di x È definita come x volte E alla modulo Di x meno 1 Oppure come l'abbiamo definita Per casi Non va a fare niente Ci basta questa scrittura Allora Se vogliamo fare il limite Per x che tende a più infinito Di f di x Ovvero il limite Per x che tende a più infinito Di x Per e alla x meno 1 Beh x tende a più infinito Modulo di x meno 1 Tende a più infinito E elevato alla modulo di x meno 1 Tende a più infinito Quindi tende a più infinito Tutto questo tende a più infinito Per più infinito Quindi tende a più infinito Similmente Il limite Per x che tende a meno infinito Di f di x Che quindi è uguale al limite Per x che tende a meno infinito Di x per e alla modulo di x meno 1 Allora Quando x tende a meno infinito Questo termine qua Tende chiaramente a meno infinito Questo termine qua invece a quanto tende? Beh x meno 1 E' vero che x è negativa Però il modulo è sempre positivo Modulo di x meno 1 Quando x tende a meno infinito Esplode a più infinito E elevato a una cosa Che esplode a più infinito Esploderà a più infinito Quindi questo è meno infinito Per più infinito E quindi tenderà a meno infinito Quindi Queste due informazioni ci dicono che 1 Non esistono sintoti orizzontali E 2 Ma in realtà questa è più Un'osservazione Che è una cosa che deduciamo Da questi due limiti E' che non esistono nemmeno Asintoti obliqui Perché un asintoto obliqui Significa che La funzione all'infinito Un asintoto obliqui È una retta E quindi stiamo dicendo Se f di x Avessi un asintoto obliqui Staremmo dicendo Che f di x All'infinito Tende a più o meno infinito Come una retta Ma non è possibile Perché f di x Ha dentro di sé A questo fattore esponenziale Questo fattore esponenziale Tende a più infinito Molto più velocemente Di una qualunque retta Possiamo considerare Quindi è chiaro Che non possono esistere Asintoti obliqui Bene Ora mettiamo insieme Tutte queste informazioni Per provare a disegnare Un grafico di f Allora Disegniamo Il piano cartesiano Quindi Asse delle x Asse delle y Allora Cosa sappiamo Allora Allora La funzione f di x Abbiamo detto Essere x volte E Scriviamo qui X volte E alla modulo Di x meno 1 Abbiamo Il punto x uguale a 1 Quindi supponiamo Questo qui Il punto 1 Dove la funzione f Non dà problemi È ben definita E quanto vale f di 1 Se andiamo a sostituire Al posto di x E' 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 Però Nel punto x uguale a 1 Mentre x uguale a 0 Per x uguale a 0 Quindi f di x uguale a 0 Soltanto quando x uguale a 0 Quindi sappiamo che In x uguale a 0 La funzione Passa per il punto 0 Dopodiché Cos'altro sappiamo Vi ricordo che F' 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 Diciamo Di 1 Non è definita Ma F' Di 1 Da sinistra Da Chiamo F' Di 1 Meno Cosa intendo Il limite Del rapporto incrementale In x uguale a 1 Quando h tende a 0 Da sinistra Cioè Questo qui Il limite Del rapporto incrementale Quando h tende a 0 Da sinistra Vale 0 Quindi Cosa vuol dire Vuol dire Che quando La funzione f di x Si avvicina A 1 Da sinistra La derivata Tenderà A 0 E quindi La retta tangente Sarà la retta orizzontale Per cui ci arriva No Con Retta tangente Orizzontale Ci arriva In questo modo Mentre F' Di 1 Da destra Quindi intendo Il limite Del rapporto incrementale Centrato in 1 Di quando H tende a 0 Da destra Valeva 2 Che è strettamente Positivo E quindi Questo cosa vuol dire Quando la funzione Si avvicina a 1 Da destra Avrà Una Retta tangente Che sarà Invece Positiva E per cui Farà qualcosa Di questo tipo Adesso Non è questo Il disegno Che ho fatto In questo caso La retta tangente È questa Esattamente Dopodiché Cos'altro sappiamo È la funzione Per x Maggiore di 1 Cresce 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 Fino ad andare All'infinito Quindi no Continua a crescere 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 In 0 Vale 0 E poi la funzione Da meno infinito Fino a 1 Cresce Quindi se la guardo Come funzione Va da 1 A meno infinito La decresce Fino a meno infinito E poi basta Quindi in sostanza Il grafico sarà qualcosa Di questo tipo Ora proviamo a disegnarlo Un po' più meglio Quindi la funzione Parte da meno infinito Quindi in 1 Vale 1 Parte da Meno Infinito Cresce 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 Arriva in 1 Con tangente Orizzontale Dopodiché Riparte da 1 Con tangente No Corretta tangente Non più orizzontale Ma con Coefficiente angolare È strettamente positivo Quindi qualcosa Di questo tipo E poi continua A crescere 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 Questo qui Sarà all'incirca Il grafico Di f di x E come potete vedere F di x È una funzione Continua Anche in x 1 è continua Però La derivata Non è continua Perché questo punto Qui è un punto Angoloso Cioè Ho una tangente Orizzontale Qui Mentre una tangente Non orizzontale Semi Su quest'altro ramo Va bene Con questo Abbiamo concluso L'esercizio E se ti è piaciuto Questo video Ricordati di iscriverti Al canale Grazie